Musica Ma non stai a girare con ci scrivi Scandato electrona Per quello potete usare anche il GPS Utilizzate soltanto il GPS Guarda io sono sulla verticale nell'aeroporto da dove siamo partiti Allora io sono per Prua 233 In questo momento Prua 349 Per un attimo aspetta io vedo una specie di ispirato Dove sei in questo momento? Se mi raggiungi? Io direi di essere E cominciamo a partire da meglio Abbiamo deciso di visualizzare il GPS Su quell'aeroporto Io ho appena visto l'anima Al peggio fai un circuito e ti accodi Eh purtroppo Svaldo mi sono appena collegato Ah ho capito Guarda dove hai sentito il tuo decollo Entendo Ma adesso vedrò quello che ho installato Lo so che la SEL Decollare con i libris Charlie Kielo e Kielo India in chat Allora 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 D weed E nel raccordi medio fuoco Ok Chiedono scusa a tutti già fin d'ora Ma appena atterrati ci stacchiamo entrambe questo non vado errato no ho attaccato quello di FS9 fa una cosa se riesci fa un 360 cioè scusa no 180 accordati al gruppo certamente è uno Spitfire hai sbagliato l'unico l'unico vecchio che avevo perché miseria no è che l'ho messo via da qualche parte non sono capace di trovarlo porca miseria no me lo ricordo freddo bisogna tirarlo giù oh Dio è meglio che state attenti voi tira fuori i flat e vai più piano sei fortunato l'unico vecchio che l'unico il carriere ce l'ho di dietro perchè sotto il bel cavo ok qui ci stiamo avvicinando a Lussemburgo io ho fatto il cavo al lato destro no 2 1 1 1 9 sì 1 1 9 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 11 10 11 11 12 12 13 14 12 14 14 15 15 15 16 15 16 16 Ho toccato giusto, avevo il papi due rosse e due bianche, come si dice si è piantato con la punta, ma l'avevo già toccato, avevo già fatto la corsa di enterrage, come si dice, ne avevo già fatto un po' e ho finito tutto e ho capottato. Grazie a tutti.